Bene a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati a giocare su Happy Wheels Venerdì mattina, buon venerdì mattina ragazzoli a tutti quanti, a chi deve studiare, a chi deve seguire video lezioni, a chi deve lavorare, a tutti quanti ragazzoli Intanto noi portiamo un bellissimo video su Happy Wheels in cui cercheremo di fare qualche livello carino, non perdiamo tempo e partiamo subito Allora andiamo a prendere sempre quelli più carini della settimana raga, almeno andiamo a fare qualcosa di simpatica Iniziamo da primo, dai, Granada Tosso, anche Granada Tosso deve essere carino Allora i nomi sono simpatici, i nomi che io vedo sono simpatici Vediamo Round Adventure, secondo me è molto simpatico, potrebbe essere qualcosa di carino Se capissi qual è il nest, siamo in un parco, hey a nice day, it's a nice day, shut up son, mischino, non ha detto niente Shut up, no? Che cosa ci faceva Gandalf il grigio? Perché siamo diventati delle palle? Ma che... I don't know Ok, let's go, let's go Press space or... No, raga Aspettate, come si muovono questi? No, fantastico Fantastico Ma che livello è? Oh no, the stars E quindi c'è un modo per saltare le scale No, le saliamo rotolando Ma spettacolo, signori miei Ma spettacolo In questo periodo di quarantena Ah, sono diventati tutti palloni What's happening? Piano, piano, piano Che quelli ti fai male Ma guarda la potenza fisica di quest'uomo che sta le scale arrotolando Ma di che stiamo parlando? No, la scivola è bellissima Scivola, 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 scivola Uno è rimasto in... Quello lì è rimasto bloccato nella sabbia Perfetto Occhialata è stata, ragazzo Occhialata è stata Guarda, bellissima come ci stiamo con il nostro figlio Riusciamo a... Dai, 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 dai Questo livello, raga Questo livello merita Merita il premio Nobel Abbattilo No, perché non posso più abbattere gli alberi? Volevo abbattere gli alberi Madonna Madonna L'uomo è rimasto bloccato sulla panchina Non riesce a mettere i piedi a terra Questo, questo nemmeno Non riescono più a mettere i piedi a terra, ragazzi Hello I'm Dimitri Dimitri, il nostro Dimitri Why is your... It's good That nothing happened to me Ma che vuoi? Spostati Dimitrov Il nostro Dimitrov Questo addirittura Mi sa che qua c'era seduto qualcuno di ancora più... Qualcuno di grosso già in partenza Si è spaccato la panchina Dai, saliamo la collina Saliamo la collina Saliamo la collina E si scende Oh, madonna mia Sto dicendo come cazzo Come cazzo la faccio saltare Il mago Il mago Si è fregato il picnic, il mago Ah, mago It's mine now Spettacolo Mi è piaciuto un botto Troppo carino Troppo carino Diverso dai soliti livelli di Happy Wheels Troppo carino Troppo carino Poi vediamo questo granata tosso Questo sarà bello Bello Allora abbiamo... Ah, spettacolo Sembra che stiamo per tirare le angurie Allora, aspettate Devo... Ah, io posso... Primo lancio di merda Ok Il nonno c'è che l'abbiamo fregato Ok No Boh Me ne rimangono due Me ne rimangono due Riproviamo, riproviamo Riproviamo, riproviamo Ho capito come si gioca Ho capito come si gioca Allora Intanto... No Devo prendere la palla No Meno male che non ho perso la palla Allora Bello Due con un colpo solo No Mannaggia a me Riesci a colpire... No Ma che paranoia Ne avevo presi due con un colpo solo Bello, bello, bello Piglolo, sii Quei... Botta di fortuna, raga Botta di fortuna Ho perso tre palle Prodidente Però due coppie Le abbiamo ammazzate Con una bomba sola Rob Swing Oro Rob Swing lo dobbiamo fare per forza Magari un'altra livella Ecco, se magari lo riusciamo a fare giusto Starebbe già tanto Si parte subito così Di botto Di solito Gli altri ci hanno... Ok Mamma che mi si sono infilate male Ste spine Mamma che mi si sono infilate male Ste spine Allora, il primo non lo consideriamo, raga Siamo dei pro, raga Siamo dei pro, siamo dei pro Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Anche Papa Mauro si emoziona Di cosa stiamo parlando? Poco Games? No, Paracadute non mi ispira Ball Portal Football, football per forza, raga Voglio vedere il football cos'è E che dobbiamo fare? E che dobbiamo fare? Che cos'è? Olly e Benji Victory? Come victory? Perché stavo toccando le stelle forse Ma in teoria la dovrei parare Benji Price La para Bellissimo questo livello Raga, lo farei all'infinito E Benji Price, buffon E vittoria E vittoria a prescindere, non c'è una possibilità Di perdere in questo videogioco E Benji Price la para Con una forbiciata volante E' spettacolare Lo farei non so quante volte Sto a livello E' bellissimo Complimenti a chi l'ha inventato Complimenti a ByeKiril Fanne altre Mico mio Perché è spettacolare Golf Vediamo Golf Non ho mai giocato a Golf A Happy Wheels Clicker Allora, Clicker Clicker Perché è caduto un uomo dal tetto? Va bene Lascia perdere Non capisco perché Cadano uomini dal tetto Però va bene Va bene Harper Run for Boss Vai, facciamo un Harper Run Raga Non sono mai stato bravo Negli Harper Run Però Aia Ve l'ho detto Non sono mai stato bravo Aspettate Devo un attimino capire come si salta Ah, ok Così Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bello Facile Facile Devo dirlo Facile Facile A parte slattellina iniziale вacile Abba è abbastanza facile Come livello Poi Che altro possiamo fare? Che altro possiamo fare? Just new experience Just new experience Vediamo questo che cos'è Proviamo No E io queste come le passo Se vado così mi inforchetto praticamente Sì, sì, questo è difficile Penso che debba fare una cosa di questo genere Penso che debba andare A sbattere nella bomba Però non col mio fisico Ma dovrei andarci in teoria Con Col No, no, no No Vabbè, lasciamo Questo è già il livello più complicato Questo livello non è per me Questo già è più da pro Io faccio il bottle run Dai, facciamo un bottle run, raga Un bottle run Non è che ci sta un botto Un bottle run Ci sta un botto Anche nel bottle run Non sono bravissimo Mi devi dare quello con la bicicletta I bottle run Si fanno col tizio con la bicicletta Che poi non ho mai dato un nome A tutti questi A tutti questi tizi Praticamente Impegna, 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 impegna Bella così No, dovevamo rallentare No, no Rallentato Mannaggia L'abbiamo andati bene Di nuovo, di nuovo, di nuovo Sempre tre tentative a livello, raga Tre tentative a livello Ricordiamocelo Il primo è andato Il primo è andato Il primo è andato Il primo è andato Corri, corri, corri Corri velocissimo Corri velocissimo Tieni la su, tienila su E chi siamo? Valentino Rossi Tieni la su Dai, dai No Eravamo arrivati Eravamo arrivati Eravamo arrivati Quando mi sono sentito Valentino Rossi L'abbiamo scazzata praticamente Dai, dai Ce la possiamo fare Ce la possiamo Vai, parti Vai, parti Tieni la su Tieni la su Non troppo Tieni la su Tieni la su Tieni la su Non con la faccia Però va bene Niente, raga Tre tentativi L'abbiamo fatto Vabbè, il quarto ci sta Dai Il quarto me lo dovete dare Per forza Dai Il quarto è perché mi volete bene Il quarto è perché mi volete bene Il quarto è perché mi volete bene No, niente 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 il nostro figlio che è volato via Mamma mia Ci si è distrutti completamente tutti Per correre su delle bottiglie con la bicicletta A posto A posto Ball game Ball true Vediamo se c'è un Non c'è un Alp run Ball true Aspettate Noi abbiamo fatto Noi abbiamo fatto Football Ah, vedi che cosa è qua Ecco Ball portal Volevo capire cos'era ball portal Ah, uno di quelli semplicini Che fanno tutte cose da soli Non è vero? Sì Si fa tutto solo Praticamente Fa tutto solo Noi siamo dei Dei teneri spettatori Dei simpatici spettatori Sta a fa tutto solo Victory Va bene Andata così Andata così Gli è bastato praticamente molto veloce Bravo Comunque Chi l'ha fatto? Exit E tu meno Facciamo l'ultimo Dai L'ultimo Facciamo Sparacadute Skype drop Spike drop Non so E quindi? No No Tab Space And Ok Simpatico questo Raga Bello Chiudiamolo così Il video Chiudiamolo così Il video Fermo Troppo 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 Di là Di là Di là Di là Bello Così Bello Così Tieni Tienilo 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 Occhio alle scarpe Occhio alle scarpe Non ho capito a un certo punto perché abbiamo perso il paracadute però va bene Dai 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 No 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 Ci siamo ancora vivi Ci siamo Ci siamo Secati in maniera terribile ma siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Adesso no Adesso non siamo più decisamente vivi Comunque ragazzoni Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per tutto quanto Noi ci vediamo Ci vediamo alle Alle due e mezza per la prima live della giornata Su fifa carriera giocatore In cui continueremo la nostra ruota tutto pallone d'oro Con il nostro carissimo caparezza junior E niente ragazzoni Un abbraccione Una buona mattinata Ci vediamo più tardi sempre qui sul canale Bella raga Ciao Ciao